Il Codice degli Appalti è stato al centro di un approfondito convegno a Roma promosso dallo studio legale di Pardo e organizzato dal gruppo Accadrà, un confronto serrato tra tecnici e rappresentanti delle imprese su un tema di stretta attualità e spinte contrapposte. La politica da una parte che vuole sbloccare investimenti e sviluppo e dall'altra chi, come l'ANAC, richiama la cautela e a non disfare un quadro normativo ancora in assestamento. Secondo Giuliano Di Pardo, avvocato con una ventennale esperienza nel settore, il nuovo Codice e il proliferare delle fonti normative hanno creato una crescente confusione, anche perché in soli due anni ha già subito 441 modifiche. Sui grandi appalti la quota di ricorsi è più alta della media e in generale i propositi di riduzione dei contenziosi sono stati gestiti creando un percorso a ostacoli che però grava le imprese di costi elevatissimi. Spesso, per questo, le aziende optano per procedere sul penale, semplicemente perché non costa nulla, ha spiegato. Abbiamo detto che c'è un trasferimento della giurisdizione dall'amministrativo a penale, si fa denuncio a penale, non costa nulla, non si fa il contenuto. Il presidente di Consi, Roberto Basso, ha messo in rilievo la crescente diffidenza da parte dei funzionari pubblici nell'entrare in contatto con il settore privato, ma anche il problema delle perdite di competenze dell'APA e alla necessità di rifocalizzare il personale sul conseguimento di obiettivi precisi. Da parte dei numerosi rappresentanti di imprese sono piovute critiche al quadro procedurale attuale, con alcune divergenze di vedute su temi specifici, come quello dei limiti ai subappalti. Spero che questo tavolo sia solo l'inizio di un cammino insieme, ha voluto concludere Di Pardo.